Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Nicole e il mio blog si chiama Col Cavolo. Oggi iniziamo a pensare ad Halloween, sì perché è vero che è fine mese, ma è meglio sempre portarsi avanti. Vi farò vedere come in meno di un'ora riuscirete a creare questi biscomostri super carini, perfetti sia per i più piccoli ma anche per i più grandi e soprattutto perfetti per una merenda o una cena a tema Halloween. Ma bando alle ciance, iniziamo subito perché ci vuole davvero pochissimo tempo. Iniziamo! Per preparare i nostri biscotti abbiamo bisogno di un uovo, un tuorlo, 125 g di burro freddo di frigo tagliato a tocchetti, 200 g di farina bianca, 50 g di cacao amaro, un pizzico di sale e 110 g di zucchero che non vedete ma in realtà è la prima cosa che inserisco nel robot da cucina insieme al resto degli ingredienti. Chiudo il robot da cucina, frullo alla massima potenza fino ad ottenere un composto piuttosto omogeneo che inizia ad agglomerarsi e quindi formare quasi una palla già nel frullatore. Rovescio il mio impasto sul piano di lavoro che spolvero leggermente e stendo ad uno spessore di circa 3-4 mm. Quindi con un tagliabiscotti ricavo tanti piccoli dischi che metto su una teglia coperta con carta da forno e vado ad infornare a 180 gradi nel forno caldo per 15 minuti fino a quando i bordi saranno leggermente più scuri. Nel frattempo preparo 180 g di zucchero a velo, 80 g di burro questa volta morbidissimo e un cucchiaio di latte a vostro piacere. In una ciotola metto lo zucchero a velo ed il burro. Io inizio a schiacciarlo prima con un cucchiaio e poi aggiungo il latte e passo al frullatore in modo da non avere i pezzettini di burro che mi vanno dappertutto insieme allo zucchero. Divido quindi il mio composto di burro e zucchero in due ciotole e le coloro con dei coloranti alimentari in modo da avere due farciture diverse. Inserisco la crema al burro in una sac à poche, taglio leggermente la punta e comincio a riempire i miei biscotti. Da un lato riempio un po' di più in modo che chiudendo poi i biscotti possiamo andare a inserire i nostri occhietti. Non riempite tutti i biscotti con tantissima crema al burro perché sennò poi nausea. Chiudete le vostre coppie di biscotti e procedete fino a terminare i biscotti con la crema al burro. Per ultima cosa non vi resta che aggiungere gli occhietti, io ho utilizzato questi di zucchero e poi metteteli in frigo intanto che i vostri ospiti staranno arrivando. Ovviamente se avete ancora meno tempo potete preparare il giorno prima i biscotti. Avete visto che non serve neanche che riposino in frigorifero, quindi una volta fatto l'impasto li buttate subito in forno e sono pronti. Quindi li lasciate raffreddare completamente e poi il giorno dopo preparate la crema al burro. Se in casa vostra dovesse fare un po' caldo e la crema al burro dovesse lasciarsi andare, non preoccupatevi. Voi comunque farcite i biscotti e buttateli circa 5-10 minuti in freezer e vedrete che la vostra crema al burro si stabilizzerà in un anno secondo. Anche se i mostri con gli occhi colati comunque sono carini e sono perfetti per Halloween. I biscotti già farciti si conservano un paio di giorni in frigorifero o fuori dal frigo con una temperatura massimo 20 gradi e sono perfetti per la merenda o per la colazione. Detto ciò fatemi sapere qui sotto se il video vi è piaciuto, se li rifarete mandatemi le vostre foto e taggatemi, comunque vi lascio tutti i riferimenti qua sotto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, pollice in su se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti!